Io ricordo ancora il nostro colloquio telefonico quando mi contattasti. Ora apprezzando e vedendo cosa sei, cosa hai creato, la tua vita, la tua esperienza, vedo in quella telefonata anche un gesto di umiltà alla quale non siamo proprio abituati perché qui l'ultimo della scala è abituato a metterti piedi in testa se può. Poi questo corso, ma tutto il percorso perché io faccio anche lettura, è intervenuto in un momento in cui io non avevo proprio motivazione di nulla, avevo perso completamente la motivazione anche nel lavoro, poi non mi ricordo, mi sa che parli con Serena, problemi con mio figlio che comunque poi lo farà a luglio, tutto insomma una questione e ti posso dire che è come una ragione di vita, no, non esageriamo, però mi ha riacceso tante cose e vedo proprio tutto il gruppo, te, il sistema anche come un punto di riferimento per una crescita. Poi ho visto che fate tante altre cose, per quanto riguarda gli strumenti, ok come hai detto tu li ho toccati con mano, ovviamente io sarò ripetente come ripeto sempre tutto, cercherò anche poi insomma di applicarmi e di applicarli, ne riconosco la validità come hai detto tu a livello cosciente, ora devo cercare di farlo diventare un meccanismo, che ti ho detto poi mi ha acceso anche perché ho scritto un messaggio anche sul fatto dei problemi alla guida che ho avuto, perché insomma sentendo tante cose, io sono stata pure da uno psichiatra per i problemi della guida, però lui mi ha dato solo una compressa che poi ho smesso di prendere perché mi aveva regalato 10 chili e più un intorpidimento, cioè nella vita. E niente, quindi è come una finestra che si è aperta su un mondo, che può farmi solo bene, però mi applicherò con le tecniche perché mi possono servire per tante cose, in quanto io ho avuto l'herpes zoster in testa a settembre, poi vabbè non sono una giovincella, e quindi proprio noto che sono sempre distratta, faccio fatica, anche quando io scrivo un mio atto, poi lo leggo e dico ma l'ho scritto io. E poi, sì, sono proprio distratta ultimamente, cioè devo fare fatica per ogni cosa, per il processo telematico, devo stare attentissima. Ogna se posso rifatti di nuovo da zero la lettura, non andare avanti, riparti da zero. Sì, ma infatti io stasera la ripeto. Sì, perché lei sta già facendo lettura perché ha voluto iniziare il mese scorso. Devo dire che su lettura ho visto effettivamente il miracolo, perché è noto che comunque leggo più velocemente, prima per leggere cinque pagine di un romanzo, ora c'è cinque pagine in quasi nulla, ovviamente parliamo di romanzi, però con più, diciamo anche entusiasmo, perché essendoci una lettura più veloce, ovviamente non mi addormento sul romanzo. Grazie. 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 Grazie.